Nuova energia 2.0 per Ascotrade. L'azienda trevigiana di fornitura di gas e luce entra infatti nel mondo del web con una serie di innovazioni che garantiscono ancora più modernità ed efficienza ai servizi offerti, come spiega il presidente Stefano Busoli. Questo era uno degli obiettivi che ci eravamo posti come consiglio di amministrazione, l'abbiamo raggiunto, siamo quindi soddisfatti di questo obiettivo. Andiamo a colpire un target che fino ad oggi non ci era possibile colpire, oggi andiamo a dialogare con nuovi clienti, giovani clienti, mettiamo la società commerciale del gruppo Ascopiave in condizione di guardare anche i competitor più grandi. Ci allineiamo a questi e oggi abbiamo la possibilità di proporre a un nuovo mondo offerte commerciali interessanti. Nuove opportunità studiate e sviluppate per essere al passo coi tempi, con l'obiettivo di avvicinare sempre di più l'azienda ai suoi clienti. Oltre all'ammodernamento del sito internet ascotrade.it, aggiornato nei contenuti nella veste grafica, sono stati varati infatti il nuovo sportello online per gestire il proprio contratto energetico con pochi semplici click e soprattutto una nuova app, uno strumento gratuito scaricabile su smartphone che permette in qualsiasi luogo e momento di verificare i contratti, inviare la lettura del contatore gas, controllare le bollette, localizzare tutti gli uffici territoriali e ovviamente essere aggiornati su tutte le novità e promozioni del mondo ascotrade. Direi che su questo piano non c'è differenza, essere azienda del territorio o essere un player nazionale non fa nessuna differenza, l'importante è sapere erogare servizi di primo ordine con questa nuova app, con il nuovo sito internet, con i nuovi servizi che offriamo, pensiamo di essere in grado di farlo e dunque questo è per noi un nuovo inizio. Un vero e proprio restyling multimediale che renderà Ascotrade anche più social. È già online infatti la fanpage ufficiale dell'azienda che renderà ancora più facile e trasparente il dialogo con la clientela. Le scelte che abbiamo fatto in passato vanno esattamente in questa direzione. Abbiamo sempre ricercato la comodità del cliente, quindi anche l'apertura degli uffici che risale ormai un anno fa, il sabato mattina, va esattamente in questa direzione. Oggi implementiamo con un'ulteriore comodità, quindi da casa uno può controllare i suoi contratti e può avere la possibilità di dialogare direttamente con Ascotrade.